I bambini, i ragazzi del quartiere Tamburi meritano tanto, meritano innanzitutto di respirare un'aria sana, un'aria pulita, non quell'aria che è ammorbata dalla grande industria assassina, da acciaierie d'Italia. Oggi, ieri Ilva, ieri ArcelorMittal, chiamatela come volete. I ragazzi meritano tanto, meritano di poter stare assieme, meritano luoghi di aggregazione dove incontrarsi e dove magari fare sport. Ecco, passavo dal quartiere Tamburi in giro per la città per monitorare i quartieri, ma li conosco come le mie tasche dopo 21 anni di attività giornalistica e vedevo questo spiazzo in via Pascoli e questi ragazzi che così in modo spensierato giocano a pallone. Ecco, sarebbe bello creare delle strutture sportive organizzate in cui i ragazzi possano stare tra loro e possano crescere. Sono momenti educativi anche per, come dire, allontanarli dai pericoli della devianza. Strutture sportive, centri di aggregazione saranno al centro del mio programma. Una Taranto diversa, una Taranto costruita con i cittadini, una Taranto costruita sull'ascolto, una Taranto costruita camminando, girando per la città, come dire, sentendo il polso, come un termometro che avverte le necessità. Ecco, mi duele il cuore vedere un quartiere che rimane così abbandonato a se stesso. A questi ragazzi è stata spenta la speranza. Cercheremo di riaccenderla con una politica dell'ascolto, ma anche con una politica dei fatti. E allora strutture sportive e centri di aggregazione, innanzitutto per i quartieri più a rischio. Grazie a tutti.